C'è una piccola deviazione per venire a vedere questa chiesita e la Madonna dei Guarneri. Stiamo andando lungo il sentiero che ci porterà in breve, spero, al Corre del Prio. Stiamo andando a vedere questa chiesita e la Madonna dei Guarneri. Stiamo andando a vedere questa chiesita e la Madonna dei Guarneri. Stiamo andando a vedere. Grazie. 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 Grazie.